Secondo i periti che hanno esaminato Veronica Panarello, la donna presenterebbe una personalità non armonica ma in ogni caso capace di intendere e di partecipare al processo. Insomma, non avrebbe disturbi mentali clinicamente rilevanti e questa è la conclusione degli esami psichiatrici che erano stati disposti dal GUP davanti al quale la donna è sotto processo per aver ucciso il figlio Loris e per averne occultato il cadavere nel canalone di Contrada Mulino Vecchio a Santa Croce, Camerina. E proprio in riferimento a quel 29 novembre del 2014, continua la perizia, la donna anche all'epoca aveva capacità di intendere e di volere. Il processo si celebra con il rito abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica che è stata redatta da Roberto Catanesi, ordinario di psicopatologia a Forense all'Università di Bari ed Eugenio Guglia, professore ordinario di psichiatria all'Ateneo di Catania. La donna, su richiesta della difesa, è stata sottoposta in centro diagnostico anche una risonanza magnetica alla testa per verificare le sue condizioni neurologiche, morfologiche e funzionali in una clinica di Catania. Il processo riprenderà il prossimo 20 giugno. Veronica Panarello lo scorso gennaio ha accusato anche il suocero Andrea Stivalle di aver ucciso il bambino per impedirgli di rivelare una loro presunta relazione che l'uomo ha sempre negato anche davanti al PM che lo ha indagato come atto dovuto. Grazie a tutti.